Ok. Allora, noi intanto siamo contenti di essere in questo gruppo di lavoro che sarà appunto un laboratorio sullo strumento Padlet ed è una delle puntate della guerra delle competenze per la cittadinanza, che è questo percorso di formazione e autoformazione di tutti coloro che lavorano attorno ai consigli municipali dei ragazzi. Nella Gorà ci sono alcuni filoni di lavoro, tra questi uno che riguarda proprio i processi di partecipazione e quindi dentro questo filone ci sono alcune puntate che ci aiutano a comprendere, utilizzare e maneggiare degli strumenti che facilitano la partecipazione dei bambini e delle bambine, delle ragazze e delle ragazze, in particolare nello strumento consigli municipali, ma evidentemente, diciamo, anche in altri ambiti. Cioè, come tutti gli strumenti, gli strumenti possono essere usati in tanti ambiti, poi come decidiamo di usarli e dove pensiamo di usarli dipende dagli obiettivi che noi ci poniamo. Il Padlet, diciamo, è uno degli strumenti che di fatto permette, ce ne sono altri, ci sarà per esempio una puntata sui podcast, ci sarà una puntata su Canva, su altri strumenti digitali. Sono degli strumenti, in particolare il Padlet, e oggi proprio sperimentiamo e ci lavoriamo, facciamo degli esercizi, che vanno nella logica che noi, diciamo, come Abicittà, Celi, Fondazione Aquilone, Ambiente Acqua, insomma, come Ati, abbiamo pensato debba avere il nostro strumento consigli dei ragazzi per ragionare nei termini di quella che chiamiamo comunicazione e documentazione integrata. Allora, questa cosa qua è un concetto molto importante dal nostro punto di vista, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che noi pensiamo alla documentazione, cioè a che cosa raccogliamo, diciamo così, di contenuti man mano che lavoriamo con i bambini e i ragazzi nello strumento consigliani e che cosa comunichiamo all'esterno, non come un'azione che viene fatta a parte, a lato e magari anche dopo, no? Quando fai il report, fai il verbale, chiaro che intanto che c'è la riunione prendi gli appunti, no? E poi dopo però devi star lì, ricostruirli, mettergli una forma, pubblicarlo, mandarlo, inviarlo, possibilmente ricevere dei feedback, no? Tutto questo lavorino è proprio sostanzia la documentazione, le azioni di documentazione e di comunicazione. Integrata, invece, cosa vuol dire? È un concetto molto importante perché ci dice che e ci propone una logica diversa, cioè che se io documento, se le mie azioni di documentazione e anche di comunicazione verso l'esterno sono, diciamo, connesse, sono interattive con le azioni, le attività che io sto svolgendo con i ragazzi, per esempio, in una seduta plenaria, cioè se intanto che io faccio una votazione contemporaneamente, la struttura in modo che quell'azione di votazione è contemporaneamente un'azione di documentazione e di comunicazione, le due cose, cioè l'azione in sé, la votazione e la documentazione si aumentano tantissimo nell'esperienza, questo da un punto di vista pedagogico nell'esperienza. Faccio un esempio. Io la votazione la posso fare per alzata di mano, posso mettere i bollini su un cartellone, ma posso fare anche tante altre cose. Posso usare, per esempio, un dispositivo che si chiama, un'applicazione che si chiama Mentimeter, che passa, che Selene conosce molto bene, che passa attraverso il cellulario, attraverso i monitor dei computer, e quindi ho, e dove i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti, chiunque può votare in diretta e vedo, diciamo, in diretta su un altro schermo o sullo stesso i risultati della votazione. E questa cosa però può anche essere in diretta, nel senso di, in diretta a Facebook, oppure in una diretta, diciamo, online, oppure immediatamente visibile da altri che non stanno in quel luogo lì. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, e peraltro può anche suscitare delle reazioni questa cosa, no? Quindi possono esserci delle risposte, mi piace, il commento, eccetera. Cosa vuol dire? Che ho agito contemporaneamente un'azione che è la votazione, devo decidere una roba, facciamo la panchina giallo-verde, no? E devo farlo, devo trovare un modo per decidere. Ma allo stesso tempo lo dico anche, e ne prendo nota, documento e comunico, ne prendo nota perché poi io comunque la decisione sul fatto che la panchina è stata votata gialla, perché piace di più il giallo, eh, da qualche parte lo dovrò scrivere, dovrò tenerne traccia, no? E, ehm, allo stesso tempo dovrò anche dirlo ad altri, magari non solo a quelli che hanno partecipato alla votazione, ma anche, non so, ad altri cittadini, ad altri, eh, ragazzi. Per esempio a quelli che hanno votato quei consiglieri, li hanno mandati al consiglio dei ragazzi, no? Allora, questa contemporaneità, eh, e anche il fatto di ricevere dei feedback, fa parte della contemporaneità ed esalta il lavoro della votazione, perché nella testa, come minimo, nella testa del ragazzino che vota, c'è l'idea che contemporaneamente altri stanno seguendo questo processo e sono interessati. E quindi il valore, l'interesse aumenta. Peraltro è anche più efficace questo modo di procedere, perché, ehm, tante volte nei processi di documentazione io faccio una fatica tremenda, nel senso che poi finita la riunione devo stare lì a raggruppare i documenti, prendere le foto, sistematizzare. È chiaro che, diciamo, il lavoro di documentazione fatto dopo magari è più di fino, c'è più riflessione, più curato, c'è una grafica. Però è anche vero che se io ho dei format, degli strumenti che mi facilitano questo lavoro in diretta, anche la qualità è assicurata. A volte, però, nel fare documentazione e addirittura comunicazione dopo, in un altro momento, a volte è pesante, a volte non è gradito da chi fa il lavoro, a volte addirittura è sentito come una cosa un po' superflua. Pensate ai verbali, i verbali che notoriamente nessuno legge. Di solito, come dire, sono percepiti come delle cose che... Allora, ecco, questa logica della documentazione, della comunicazione integrata vede tante sfumature, no? Vede tante sfumature e, come dire, però ha il vantaggio di utilizzare anche linguaggi diversi. Il primo ha usato l'esempio di Mentimeter, ma possiamo anche usare l'esempio, non so, di microvideo, di immagini, cioè quindi anche dei canali comunicativi che non sono necessariamente solo la parola scritta. Allora, ecco, il Padlet usa questo meccanismo mentale e questa logica di processo. E noi ci siamo detti, ma insomma, dobbiamo avere un luogo che non è soltanto quello che si chiama un repository, cioè un posto dove si mettono le cose che si fanno quando le hai fatte, no? I documenti, le foto, i verbali, le cose. Ma è un luogo di lavoro, un luogo digitale, però anche un po' reale. Cioè, non è che se è digitale non esiste e il fisico, la stanza esiste. No, no, esiste. Abbiamo imparato tutti nella pandemia. Esiste, ma è accanto. Quindi io contemporaneamente, per esempio, nella plenaria, posso avere l'aula del consiglio del municipio, 5, 6 o 3 o 2, dove ci sono i tot delegati e contemporaneamente un'altra stanza che è digitale, che è il Padlet, dove ugualmente si lavora e dove succedono delle cose. E queste cose interagiscono con la dimensione fisica e l'aumentano. C'è un esempio che ha fatto Paola Ravera, imparando a usare il Padlet, ha fatto una cosa geniale. Cioè, lei ha detto all'inizio della riunione plenaria del municipio 6, l'ultima plenaria, ha detto, sperimentiamo questo Padlet, ha aperto una cosa che faremo anche oggi, ha aperto un post. Il Padlet funziona, è una bacheca digitale. Tutti entrano, puoi lavorare anche a distanza, più persone, molto semplice, diciamo, intuitivo. Ha aperto un post, come si suol dire, ha iniziato attraverso il post a filmare quello che succedeva. Notare, questo è importante, non ha fatto prima il film e poi l'ha postato. No, no, ha aperto Padlet. Quindi lei stava in quella stanza lì, come entrare in una stanza accanto all'aula del consiglio. Ha aperto un post, dal post ha iniziato a filmare, perché c'hai tutte le funzioni, microfono, film, foto, eccetera, eccetera. Ha iniziato a filmare i ragazzini, i suoi studenti che stavano lì e l'ha, come dire, salvato. E mi ha detto una cosa, non so se l'hai resa conto, ma ha detto, è, da scuola mi stanno chiedendo come sta andando. È vero. Vero Paola? E allora ci siamo detti, beh, allora puoi mandare a scuola il link di questo Padlet e seguono delle cose che stanno avvenendo in diretta. Immaginatevi che potenza per chi stava a scuola, ma immaginatevi anche che potenza sapere per i consiglieri che nel momento in cui loro facevano delle cose venivano visti dall'insegnante o dall'altro pezzo di classe. Questa cosa probabilmente l'hanno capita dopo perché andando a vedere, eccetera, ma credo che se noi sviluppiamo questa modalità di lavoro, adesso ho fatto solo un esempio, ma vedrete quanto è versatile, adesso Selene ci fa lavorare, ci sono un sacco di possibilità che rendono contemporanea e integrata l'azione, diciamo, educativa, diciamo, che si sta svolgendo con quella di documentazione e comunicazione integrata e contemporanea. Cioè avvengono nello stesso momento, possono avvenire anche in differita, eh, e avvengono in luoghi diversi, ma si integrano, cioè danno uno valore all'altro. Ecco, io ci tenevo a dare questa prima introduzione. Ci sono esempi virtuosi anche in altri municipi, per esempio nel 4, come dire, intanto che un gruppo di consiglieri di una commissione raccontava a tutta l'assemblea del proprio consiglio quale sarebbe stato i contenuti di quell'anno, un loro compagno consigliere filmava e postava questa esposizione. E poi, diciamo, quello era un modo invece che mettere poi ex post sul Padlet la foto del cartellone con la spiegazione, si può fare peraltro l'uno e l'altro, ma sono dei modi ugualmente forti, forse quello in diretta è più efficace, per raccontare quello che succede e, come dire, raccogliere feedback, contenuti, eccetera, eccetera. Io a questo punto lascio la parola a Selene, che ci fa appunto lavorare. Eccomi, sì. Buonasera a tutti. Allora, ho appena inviato nella chat il link per poter accedere al Padlet, così nel caso non avesse già la pagina aperta potete entrare. Entrerete nel Padlet di progetto, che è allo secondo blu. Scusami, permetto, questo Padlet è dei tecnici? Dobbiamo usare quelli di municipio? Sì, sì, era per fargli vedere un attimo la panoramica. Arriviamo, ci arriviamo. Allora, praticamente, se si scorre, vedrete quella che è allo secondo blu. Appunto, come diceva Alderico, voi entrate in modalità lettore, quindi potrete vedere i post, ma non potrete pubblicare nulla. Però se scorrete orizzontalmente, troverete tutte le colonne con i nuovi municipi di Milano e vi chiederei di cliccare sul link sotto al quadratino colorato del vostro municipio. Una volta cliccato sul link, si aprirà appunto il Padlet del consiglio dei ragazzi e delle ragazze del municipio di cui fate parte. Ogni Padlet ha uno sfondo diverso, un colore diverso. E inizierei con, e qua potete appunto pubblicare post, potete fare una serie di cose che adesso vedremo tutti insieme. Questo è dove lavoreremo oggi. Allora, il primo compito, che è la prima esercitazione da fare, è proprio quella di una creazione di un post. Nella colonna Gli adulti, se cliccate nel più che c'è appunto sotto, potrete creare un vostro post. In questo post vi chiedo di presentarvi, mettendo quindi il vostro nome nell'oggetto e all'interno proprio del post vero e proprio, di scrivere il vostro ruolo, le vostre informazioni di contatto e di caricare anche una vostra foto. Lo faccio vedere in diretta, può servire? Secondo me sì. Come non riesce a caricare, non riesce a caricare. Entra, sì, praticamente non mi visualizza niente. C'è la dicitura, sembra che carichi, ma poi non. Ok, forse è un problema anche di linea. Intanto che provi a caricare, se riesci a seguire la condivisione dello schermo, tu vedi come avviene, che è molto semplice. Io riprovo quindi a cliccare sull'indirizzo mandato da Selene. Sì. Se mi dici il municipio di cui fa parte, posso mandarti direttamente anche il link del municipio. Siamo al municipio 6. Ok, allora un secondo solo che te lo mando. perché non mi posso collegare al link quello che mi hai dato venerdì scorso, per intenderci Ulderico, no? Sì. Questo è un... No, no, è proprio quello. Il link... Ah, allora... Il link è sempre lo stesso. È lo stesso. Ci vado da un tempo qua. Adesso, eccola qua, la condivisione. Perfetto. Vedo la condivisione. Perfetto, bene. Sì, sì, sì. Allora sì, allora ci siamo. Il link rimane lo stesso e potete... Se avete una volta quel link, potete accedere sempre. Va bene. Allora sì, sì. Pensavo che questo fosse un link per un esercizio. Una cosa... No, il tablet è proprio quello che usiamo nel progetto. Benissimo. Allora, qui apriamo il post, come diceva Selene, e qua possiamo scrivere il nostro nome e cognome. Esatto. E all'interno puoi mettere il ruolo, quindi se si è appunto un insegnante referente oppure un referente amministrativo, un politico, quello, insomma, esatto, e mettere sotto sotto, mettere magari anche una mail per contattarvi. Ok. Perfetto. E infine caricare una foto, una vostra foto. Potete caricare una foto che già avete sul cellulare o sul computer oppure potete scattarla direttamente tramite la fotocamera. Questo è possibile farlo attraverso queste opzioni che trovate qua, diciamo, già pronte sullo schermo oppure le tante altre che riuscite a trovare appunto collegate cliccando sull'iconcina a tre puntini. Puoi mettere un altro pad, caricare un documento, collegarti un ipertesto, usare la tua fotocamera del computer o del telefonino da cui stai lavorando, la videocamera, quindi fare quello che ha fatto Paola l'altra volta, registrare solo un audio, disegnare, fare stelline, ricercare delle immagini nella rete, mettere una GIF, un collegamento YouTube, Spotify, ricercare, insomma, veramente un sacco di cose. Quello che c'è chiesto Selene è di fare una foto ne stessi? Faccio? Esatto, esatto. Aiuto. O caricare una che già si ha, insomma. Mi chiede di consentire la mia videocamera, facciamo un sorriso. La scattata devo salvare, poi questo posto lo cancelleremo perché è una vergogna. Sì, poi ci si carica e nel momento in cui si carica, basta cliccare sulla, sulla icona pubblica. Io e Selene, per esempio, abbiamo pubblicato così come messaggio anche per i ragazzi, anziché una nostra fotografia nel Padlet del municipio 6 e del 5, abbiamo messo una foto di un animale in cui ci riconosciamo. Esatto. Perché magari i ragazzi preferiscono non pubblicare un proprio primo piano, insomma, e così potete anche caricare una foto di questo tipo, ecco. Giusto Silvia, anche per il fatto che sebbene abbiamo tutte le liberatorie dei ragazzi, dei ragazzi, dei bambini, delle bambine, diciamo che è meglio evitare di postarle. In alcuni municipi, infatti, hanno fatto, come ha detto Silvia, nella colonna i consiglieri siamo noi, quindi anche i bambini, insomma, i consiglieri ragazzi hanno fatto un loro posto, un esercizio, ma anche gli adulti. Vedete qua, Silvia Gelmini è una giraffa e Selene è un bambino. E qua è molto interessante che in questa colonna ci sono anche gli insegnanti, quindi Paola, se tu poi vai nel tuo padre di municipio e fai questa cosa e metti qualche tua informazione molto carino. Lo diciamo anche ai politici. Assolutamente, è aperto, la colonna agli adulti è aperta a chiunque faccia parte, diciamo, dello staff del consiglio del municipio, quindi ai politici, agli amministrativi e anche agli insegnanti. Quello che non si è potuto vedere quando ho pubblicato il post Ulderico è una cosa di cui vorrei parlare ed è ovvero quello dell'approvazione. Perché quando creerete il post... Lo può fare Giulia? Giulia, lo puoi fare tu per cortesia un post anche veloce, sempre sul municipio 4? Così vediamo questa cosa che è molto importante, Paola. Ne abbiamo parlato perché chiunque può, avendo questo link del consiglio del municipio 4, può potenzialmente pubblicare un post. cosa che sta facendo Giulia che non è amministratrice come sono io e quindi non ho bisogno dell'approvazione, no? Quindi Giulia entra perché è un'insegnante del municipio, non so, 8 e pubblica nel... può pubblicare nel suo Padlet o anche nel padre del municipio 4, anche in quello del 6. Quindi, ma cosa succede? Dici quando sei pronta e fatto il post anche... Così faccio refresh e lo vediamo. Succede sostanzialmente, anticipo, che l'amministratore, l'amministratrice deve approvare il post perché sia pubblicato e visibile da tutti. Altrimenti rimane... Non visibile. Che non visibile, esatto. Non visibile a tutti gli altri. Tra l'altro, sempre sulla privacy, dici giù Giulia, io sto intanto raccontando la... Anch'io. Io stavo refresciando nel frattempo. Tra l'altro, aggiungo anche il fatto che nelle impostazioni che abbiamo dato a questo sistema di Padlet sono escluse le volgarità. Quindi, in ogni caso, comunque, questo aspetto è già escluso di per sé, come molti social. Ecco qua, vedete Giulia Menia, collaboratrice Coniglio, c'è da approvarlo. Se non lo approvo, Paola Ravera, che entra nel municipio 4, non vede questo posto. Lo vediamo soltanto qua perché è nella pagina dell'amministratore, cioè del sottoscritto. Se l'approvo, ecco qua, a questo punto è visibile a tutti. A tutti quanti. Sì, è una garanzia, insomma. Molto. Sì, è proprio per garantire... Per come abbiamo... L'ultima garanzia è questa, per come abbiamo impostato il sistema dei Padlet. Io che ho pubblicato posso modificare il mio post, cioè il post che ho pubblicato, quindi Paola Ravera, che non è amministratrice, può modificare il suo post andando su modifica e scrive delle cose dentro, oppure cancella perché ha fatto un errore e lo deve... Non può usare la matita rossa come fa di sopra sui quaderni e può anche cancellare il suo post, ma non può fare la stessa cosa sui post che hanno pubblicato altri. Ok? Per cancellare tre puntini in alto, qui tre in alto, è molto intuitivo e c'è scritto... Modifica oppure elimina in fondo. Elimina post. Ok, io il coniglio lo tengo, ma elimino il mio che è brutto. Elimina post, sei sicuro di eliminare e lo elimini. A te, Selene. Ok. Sì, hai già spiegato tutto e vorrei semplicemente dire quando si pubblica un post che fa riferimento a un determinato momento specifico che sarebbe carino e utile inserire anche la data di quel momento in cui viene realizzato non il post, ma all'evento che viene descritto all'interno del post e l'altra questione è legata sempre a quello che vedete... Oddio, sì. Ad esempio, mettere anche l'anno, esatto, l'anno è fondamentale. Così sappiamo quando è avvenuto cosa e, ad esempio, prendo l'esempio del post di Giulia. In alto vedete che c'è scritto anonimo, quindi non compare il vostro nome in questo post così come in tutti gli altri post che pubblicherete lì in alto a differenza dei facilitatori, dei coordinatori del progetto perché per poter avere il proprio nome lì sopra oltre ad avere un account su padre bisognerà essere partecipanti all'interno del padre del progetto. Quindi un modo per, visto che il numero degli partecipanti è molto molto elevato, non è fatto fattibile, però per potersi riconoscere basta semplicemente firmarsi all'interno del post. Questo... Così, adesso, vabbè, in questo caso c'è già il nome, ma nei prossimi in cui c'è magari la foto di un qualche iniziativa... per esempio, cartellino sport e tempo libero, qua effettivamente è un po' un peccato perché noi non sappiamo chi ha scritto. Qua è una commissione per cui qua probabilmente bisogna scrivere commissione sport e tempo libero, però magari dove ci sono degli eventi, delle iniziative fatte magari da un gruppo, è bello scrivere chi l'ha fatto e quando l'ha fatto. Esatto. Allora, quindi per la creazione del post funziona così e passerei anche alla parte dell'interazione con i post degli altri perché funziona un po' come sui social. Si può mettere mi piace, si può commentare i post che vengono pubblicati anche dagli altri, quindi il lavoro che vi proporrei è oltre a mettere un mi piace su un post che vedete all'interno della Padlet del vostro progetto cliccando sul cuoricino. Esatto, quel cuoricino basta semplicemente cliccare e va in automatico il mi piace. Puoi anche toglierlo il cuoricino. Esatto. Si può mettere e si può togliere. Mettiamo. E l'altra l'altra idea, l'altro modo per interagire è proprio quella del commento. Per farlo però facciamo una sorta di caccia al tesoro. Quindi vi chiedo di andare nell'ultima colonna che trovate nel vostro Padlet dove c'è gli altri CDMRR Milano. In fondo in fondo trovate una mappa con tutti i municipi, una mappa interattiva con tutti i municipi di Milano. Basta cliccare sopra e si apre questa mappa. Una volta aperta vi chiedo di cliccare su un municipio che non è il vostro. Ad esempio dal 4 possiamo passare ad un altro municipio a te la scelta ongerico. Questo è il 4. Ok. Al 5 cliccando così si apre sulla vostra sinistra il link per accedere al Padlet. Andando sul Padlet si apre scusa Selene intanto che si apre questa mappa è fatta a più livelli per cui si può andare ad accedere a diciamo si possono vedere le scuole diverse cose le scuole che sono in quel municipio si possono vedere vedete qua secondo dei livelli io seleziono le scuole posso vedere dov'è la sede del municipio posso vedere gli indirizzi della scuola c'è una piccola scheda che partecipa ci sono insomma diverse informazioni in questa mappa che possono essere utili scusa è una parentesi no no assolutamente va benissimo anzi quindi si si apre il Padlet di un altro municipio e qui l'esercitazione sarebbe commentare un post che vi piace che ha dentro qualche magari qualcosa di molto interessante può essere la foto può essere una frase può essere in questo caso un verico sta commentando quello che è un podcast che è stato realizzato alla fine dell'ultima seduta del municipio 5 una volta scritto il commento è fondamentale cliccare sulla freccettina che c'è di fianco altrimenti non viene salvato quindi cliccando lì sopra compare il commento quindi c'è la formichina con le antennine aggiungi commento e poi si pubblica esattamente e viene fuori diciamo in questo caso come sempre la firma è data per chi è collegato appunto dal nome con cui è entrato nel padre altrimenti è bene mettere il nome il proprio nome magari anche il municipio tra parentesi da cui si proviene e anche in questo caso si può modificare il commento sempre i tre puntini e qua è un perico per esempio mi sono dimenticato di scrivere il nome anche dopo posso modificarlo è sempre la stessa logica modifico quello che ho scritto io per accedere alle modifiche le cose sempre i tre puntini ma qua posso aggiungere un altro commento mi sono dimenticato un'altra cosa oppure arriva Paola e vuole scrivere lei qualcosa dice no è terribile questo podcast oppure potete migliorare la musica oppure vi consiglio di non vi sento no Federico non ti sento più eh nemmeno io ho sentito sì scusate dicevo che dicevo che anche un'altra persona può arrivare e aggiungere un altro commento al commento che ho appena messo qua sotto sì esatto quindi ogni consiglio di municipio ha il suo indirizzo esatto dove lavorare quindi diciamo così l'indirizzo che ci hai dato stasera Selene è quello per tutti i consigli di municipi quello che ho dato stasera era quello da cui saremmo partiti per farvi vedere che ci sono anche altri municipi però in quello che ha lo sfondo blu quello iniziale è dedicato principalmente appunto alla allo staff e quello lo staff può pubblicare post e può per evitare confusioni scusa Selene anche nella cartolina che abbiamo distribuito diciamo per accedere ai Padlet c'è in realtà l'indirizzo della mappa perché questo qua è il livello da cui entrano tutti i partecipanti ai consigli municipali dei ragazzi quindi il link diciamo cappello è quello della mappa che è più semplice da qua tu puoi entrare oppure tu puoi fare la stessa cosa entrando dal tuo link quello che ha spiegato Serena è molto importante cioè dal tuo link del tuo consiglio di municipio cioè per esempio il link è questo qua sopra del municipio 5 lo vedete qua scritto in alto infatti tu nel tuo padre dove lavori sempre dove vai sempre eccetera eccetera puoi andare in quelli di tutti gli altri entrando dalla stessa mappa che avete visto che è postata in tutti i Padlet nella colonna gli altri consigli a Milano quindi cliccando su questa mappa qua entri diciamo la possibilità di entrare negli altri consigli magari facciamo vedere a Paola quello del municipio 6 visto che alla fine c'è lei oggi che sì allora io sono entrata cioè dal mio giro sono entrata e l'indirizzo di Selene che non riusciva a caricarne ma adesso ho capito che insomma spesso dal municipio 6 fare come avete poi ogni consiglio ha il suo Padlet che è appunto quello che vedi qua adesso e ognuno ha il link per accedere a quello poi tramite la mappa puoi andare anche negli altri municipi per vedere magari cosa stanno facendo o su che cosa stanno lavorando appunto e fare come abbiamo fatto adesso mettere qualche commento o insomma vedere e scaricare anche eventuali file perché la prossima esercitazione era proprio legata a quello perché sul Padlet come diceva prima Alderico vengono caricati tantissimi file tra cui tantissimi report sia delle sedute dei ragazzi che del tavolo degli adulti ma non solo ci sono poi foto presentazioni video e vorrei farvi vedere appunto come funziona per lo scaricare uno di questi file prendiamo per esempio l'ultimo tavolo degli adulti del municipio 6 basta cliccare sul sul file che vedete che è legato al post vi si apre oltre a poterlo visualizzare direttamente sul Padlet in questa modalità potrete sempre cliccando su quei tre puntini che ci sono sulla destra si apre una serie di opzioni e scaricare l'allegato in questo modo potete visualizzarlo anche in modalità offline in poche parole stamparlo ma evitiamo di stamparlo visto che non fa bene al pianeta e usiamo anche un po' la tecnologia che ci può essere d'aiuto in questi casi c'è qualche affinità un po' con Classroom che noi continuiamo a usare dopo i tempi in cui bisognava fare le lezioni online ecco quindi bisognava condividere il materiale tramite Classroom ecco esattamente come dice Paola è un modo per condividere i materiali tra l'altro come dire a questo punto esattamente come tu hai fatto per il video con la tua collega non gli hai detto adesso ti mando via Whatsapp il video che ho appena fatto ma gli hai detto vai sul padre te li trovi tutto però magari qualcuno non ci voglia andare padre e comunque magari tu per motivi X o Y devi scaricare i documenti e ti li puoi tenere oppure come diceva giustamente Selene vedere i video proviamo a farlo assolutamente sì sì anche perché cliccando su video parte in automatico adesso il computer è molto carico è molto appesantito marcia a piede tattico sì marcia a piede tattico che è stato realizzato dalla dal municipio 6 bellissimo tra l'altro complimenti molto bello ma qui come vedete il video lo puoi vedere nell'iconcina del post o addirittura aprirlo anche e lo vedi più in grande non sento più il delico però ok dico che lo puoi guardare anche più in grande oppure vederlo solo si può espandere può espandere o come abbiamo detto scaricare e vedere anche sul mega schermo il cazzo del globo esatto notavo un derico che urge la esercitazione sui video perché nel municipio 5 è stato girato un video con il telefonino in orizzontale e quindi per vederlo tra l'altro la presentazione proprio è l'avvio col discorso del consigliere e viene veramente il mal di mare perché è messo e a questo punto mi chiedo come si fa essendo anonimo bisogna proprio dare delle belle istruzioni perché uno dovrebbe firmare così puoi andare a recuperare chi l'ha fatto e però non si può fare più niente le istruzioni ci sono ci sono le possiamo far diciamo diffondere insomma magari le allegheremo anche a questa puntata della Gorà delle competenze in modo che chi andrà lì potrà anche scaricarsene è un file che è stato costruito proprio per spiegare come si come si agisce questa cosa comunque diciamo è come per Facebook quando tu giri il telefonino poi dopo i posti insomma devi tenerlo nella stessa direzione in cui stai lavorando sì per quanto riguarda il 5 posso dire diciamo che il post è stato fatto dopo il video ok prima aveva fatto il video e poi aveva avuto l'idea di pubblicarlo sulla Padlet però il video l'ha già stato fatto quindi presumo che sia stato questo il motivo solo questo volevo dire solo questo e non si può girare non credo che si possa girare bisognerebbe andare sul telefono della persona che l'ha girato e rimpostarlo ricaricarlo in modo corretto però non è un problema lo teniamo lì così anche perché effettivamente ci aiuta poi uno che si trova dal genere la volta dopo impara noi questo questo strumento e questo modo di lavorare anche non è soltanto abbiamo detto la comunicazione e la documentazione integrata ma è anche un luogo di apprendimento quindi va benissimo non è un luogo raffinatissimo però è un luogo vero ecco questo è importante che cosa ci fai fare Selena a questo punto ma in realtà erano quasi finite in realtà le esercitazioni perché abbiamo viste più o meno tutte possiamo ascoltare un audio sì potremmo ascoltare appunto questo ascoltami junior è come sapete il podcast di racconto sentite il podcast che racconta le notizie dal punto di vista dei bambini e delle bambine ciao a tutti sono Carlotta della scuola tabacchi e sono considera per il 11 più 5 vorrei raccontare cosa abbiamo fatto oggi abbiamo parlato dei parchi che sono nelle nostre zone e come sistemarli ad esempio aggiungendo campi da basket da calcio soprattutto nel parco tabacchi dove c'è più bisogno di queste attrazioni poi abbiamo parlato pure della ristrutturazione delle scuole per rendere più agibili agli studenti e anche la sicurezza della nostra zona adesso serviremo anche degli altri pareri dei consiglieri del municipio 5 sono Matteo Manzo sono consiglieri del CCRR municipio 5 un portavoce delle quarte della scuola Ludovico Moro oggi abbiamo parlato di più tematiche tutti i municipi abbiamo parlato della sicurezza delle aree verdi poi anche della scuola noi ci vorremmo occupare delle aree verdi e della sicurezza sono tia della scuola Moro noi oggi abbiamo parlato di come potevamo migliorare la zona 5 e cosa potevamo aggiungere e quindi vogliono occuparsi di di abbattere le varie architettoniche e renderle accessibili anche alle persone disabili e di migliorare i barchi per i disabili così possono giocare grazie dell'ascolto e alla prossima puntata questo è molto interessante questo sistema del podcast adesso sta sviluppandosi avremo una piattaforma che si chiama podbin su cui saranno posizionati tutti ci sarà una playlist ci saranno tutti i podcast e quindi stiamo studiando poi come diffonderli attraverso i vari social e ovviamente anche attraverso il il Padlet però ricordo questo è un podcast che è stato creato con degli strumenti a parte a una sua natura però ricordo anche che diciamo il lo strumento Padlet ci permette di registrare in diretta esattamente come filmiamo vi faccio l'esempio di questa di questa audio che è la registrazione della commissione ambiente del municipio 4 che è stata registrata era quello che vi raccontavo prima in diretta mentre sensibilazione ambientale adottare una pianta semina un seme con la tua famiglia o con i tuoi amici ricordati di curarla queste sono le varie ipotesi che quel gruppo di lavoro ha sviluppato come vedete è un audio sporco molto sporco si sentono i rumori sottofondo cioè è un materiale proprio grezzo che però arriva direttamente sul padre ti ci permette di averlo a disposizione subito per cui non hai solo il cartellone o una trascrizione di appunti hai proprio la voce viva di quello che è stato detto in quella commissione quindi ha un valore effettivamente diverso volevo volevo fare una domanda quindi questi gruppi questi lavori dei gruppi quindi sono lavori che si fanno in preparazione degli incontri di plenaria degli incontri di plenaria quindi nelle assemblee mensili cosa sono le assemblee in quel caso sono proprio dei gruppi di lavoro del consiglio di municipio e la plenaria in quella giornata si è suddivisa per un'ora in gruppi di lavoro quindi sono prodotti di quelle riunioni lì ecco delle plenarie non sono prodotti perché stavo pensando che noi dovremmo poi cominciare a mettere su questi i consigli i consigli per i consiglieri ecco quindi la classe dovrà fare un'assemblea per poi dare mandato ai consiglieri questo poi magari tu il consiglio me lo spiegherà un po' meglio eh no ma qua apri un discorso molto interessante cioè qua tra l'altro non l'abbiamo detto tu puoi aggiungere anche un'altra colonna basta che fai così o lo chiedi a Selene che può farlo metti esatto cosa vuol dire questo che se non trovi un posto dove è meglio non avere troppe colonne sennò viene una gran confusione però per esempio qua eh come dire non c'è una colonna dedicata ai lavori di sottogruppo o ai lavori intermedi tra una tra una seduta plenaria e l'altra perché in tanti consigli di municipio avvengono dei lavori di gruppo invece nelle scuole che sono dei delle forme di sottocommissioni diciamo così eh che portano avanti delle diciamo delle scelte che vengono fatte nelle plenarie allora quel gruppetto lì di consiglieri nella scuola per esempio tua che magari si fa aiutare anche dai propri compagni produce delle cose e dov'è che vanno queste cose è la stessa logica della plenaria c'hai un posto cioè una colonna dove tu puoi postare quello che sta succedendo questa cosa peraltro diventa molto importante avere il padre perché le cose che avvengono nella tua scuola con quel gruppo di consiglieri o le raccontano i consiglieri delegati a tutto il resto del consiglio oppure rimarranno lì e nessuno le saprà mai cioè avrete degli esiti nella plenaria successiva però non hai la vivacità di quello che è avvenuto e quindi lì puoi raccogliere e contemporaneamente anche da altre scuole sapere cosa state facendo voi oppure vederlo dopo indifferita soprattutto ecco il coinvolgere il resto della classe no? che è stata come dire coinvolta nelle lezioni dei consiglieri come continuare a renderli in qualche modo partecipi no? in questo modo qua ecco facendoli indubbiamente hai ragione indubbiamente hai due modi cioè facendo delle cose diciamo fisicamente come gruppo di lavoro che supporta i consiglieri delegati oppure anche documentandoli informandoli e quindi andando a vedere insieme in dieci minuti il Padlet cioè dopo la la sessione plenaria il giorno dopo due giorni dopo se c'è stata questa attività di documentazione integrata e contemporanea il giorno dopo tu hai già tutto anzi ce l'hai già in diretta anzi quelli che stanno in classe volendo potrebbero ogni tanto andare a vedere cosa sta succedendo sulla LIM e tenere aperto il Padlet e vedere sulla LIM se i consiglieri la stanno postando delle cose che loro possono capire allora noi non tocchiamo l'argomento LIM perché noi siamo non siamo più in Tre Castelli siamo in emergenza e siamo tutti in via Salerno perché Tre Castelli il plesso di Tre Castelli ha problemi alla caldaia e quindi siamo senza LIM ecco quindi per adesso siamo senza LIM certo oppure si può vedere in un computer speriamo per poco diciamo che qua ci interessa dire la logica insomma no? di una partecipazione almeno a livello dell'informazione c'è Silvia che vuol dire una cosa eh sì grazie allora volevo volevo sì l'idea della della sezione notizie dalle scuole lavori in corso a scuola secondo me una colonna sola così non se ne aggiunge troppo cioè non ne metterei una per scuola ma è interessante cioè che anche i la base diciamo che ha nominato i delegati che vengono al consiglio dei ragazzi possa usare gli stessi strumenti no? che chiediamo eh di usare ai consiglieri e poi anche agli insegnanti e quindi che cosa è interessante quando tu dicevi Ulderico il la classe continua a lavorare fa un lavoro anche noi lo chiamiamo no? analogico quindi un po' con i vecchi strumenti no? con la carta i postiti i pennarelli allora è molto interessante il dialogo tra la forma analogica e questa qua digitale quindi il lavoro viene fatto in classe con le solite nostre modalità Paola no? quelle che conosciamo un laboratorio interattivo e poi qualche consigliere magari i nostri che ormai dovrebbero essere più abili perché hanno già messo il loro post con la foto il commento raccoglie le notizie dai gruppi di lavoro e le posta sul nostro Padlet di modo che non sia il Padlet il luogo del dello scambio ma il luogo della comunicazione cioè voi a scuola avete fatto un lavoro lo documentate anche in diretta e ce lo caricate lì potrebbe essere Derico questo il modo? Certo in diretta ho già creato nel municipio nel padre del municipio 6 una colonna con scritto lavori in corso poi voi cambierete modificando come vi piace a voi il nome ma insomma lavori in corso nelle scuole nelle commissioni locali dei supporter o consulenti a seconda di come vengono chiamati quei gruppi di lavoro che stanno accanto ai consiglieri e li aiutano facendo delle cose a supporto quindi questo mi sembra una buona idea qui capite come ogni Padlet con il proprio facilitatore in questo caso per il 6 e Selene capisce come mantenendo una struttura abbastanza omogenea per tutti i municipi insomma questa logica generale come dire ci guida ecco sicuramente bene io penso che abbiamo fatto una galoppata Selene è stata bravissima a spiegarci in tutte le le forme diciamo le funzioni principali ce ne sono alcune altre ma io credo che come sempre nell'utilizzo dei social o di questi strumenti poi bisogna fare pratica in prima persona e quindi auguriamo a tutte a tutti di divertirsi di smanettare come dice mio marito poi se sto una settimana senza senza fare niente poi io mi dimentico tutto quindi bisognerà fare pratica dire che non devi non devi smettere almeno un post alla settimana ti terrà in allenamento chi dovesse avere necessità perché si si ferma su un aspetto ha delle difficoltà può chiaramente scrivere al proprio facilitatore o coordinatore locale e verrà aiutato allora io interrompo la regista la regista